abbiamo iniziato per roberta ciao a tutti ciao elena come stai elena vede vuoi bere qualcosa ma sai cos'è questo il trio il trio a marchesini qualcosa 35 anni fa direi di sì bene detto questo non ridiamo più ci connettiamo a roberta conto da 5 15 4 3 2 dimmi se la vedi sì la vedo e lei cammina dietro da tipo una cintura dove nel retro della cintura diciamo a semicerchio sono agganciati dei ganci che come se fossero dei micro arattri che tirano la terra mentre lei va come si chiara della terra i denti si più che altro è come se i dei denti si incastrassero nella terra ma quindi da vedo proprio spaticare in avanti la rallentano ti dà l'autorizzazione se sono in vena di cose nuove ma dobbiamo purtroppo vedere subito i valori vibrazione 987 milioni consapevolezza 115 psp 42 58 vite precedenti 2.216 percentuale di ciò per l'utilizzata 9,2 va bene è interferita roberta se identità eteriche allora c'è un lupo tipo un lupo a una mantide e poi penso sia un grigio non so c'è tipo tipo umanoide con tipo però delle orecchie tipo spock ma è un nebbe un grigio se penso di sì perché è un po' grigiatra la pelle non è un fantoccio biologico cioè i grigi sono o dei robot biologici quindi non sono neanche una razza ma dei derivati di un'antichissima razza o in alcuni casi una razza quindi sono un pochino più autonomi non fanno soltanto i lavoracci nodi di 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 presentarsi al cospetto dei dei malcapitati oggetto di ad action insomma sono delle razze che interagiscono un po sotto i rettili ma sono delle vere e proprie razze sì sì secondo me è una vera e propria razza è sotto la mantide sì 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 il lupo è sopra sì esatto io non ti so dire perché ma il lupo non mi stupisce non so perché secondo me è legato lo vedo legato a quel cance l'ha ancora a quello che la stagione facili se a quello che le definisce gancio se vabbè noi possiamo dire del tuo sospetto no berta si della se ok c'è una setta allora si il gancio kit ha portato alla setta sarei vago se vuoi però la setta ci interessa chi sono come si chiamano ma mi viene satan field campo satanico e se allora quello che ho visto già prima mentre le raccontava sono quelli che lasciano anche i segni sei a volte i segni sulle cappelle i disegni ma chi sono quanti sono dove nel senso in tutto il mondo o lì no lì nel cane la storia di roberta sono in 5 ok 1 e lui se lui è importante nella scala dei 5 chi è secondo me ok ok questa è l'unica differenza mi spiego rifaccio la domanda delle tre che abbiamo visto i teori che qualcosa è collegato a questi lupo ma le altre due non c'entrano e quindi il lupo come si chiama il lupo valdin ok chiedigli di prendersi di prendere la sua reale forma è diventato un demone dire direttamente la strada vedere direttamente moloch cioè poi da quando gli aveva detto di prendere la sua reale forma passando velocemente ha cercato di fare altre forme ma poi alla fine sopra c'è moloch secondo mi verso quindi sì ok dov'è adesso lo vedo fuori come se se guardasse da una teca di vetro lui me la esiste per roberta per te esiste per me è lontanissimo ha quasi perso lo vedo microscopico così di vicino a secondo universo che ormai non ha più che ha completamente asciutto e per te e per me anche un puntino minuscolo ma non va proprio minuscola ok per roberta invece esiste fuori ma c'è c'è interferisce ancora così va bene noi facciamo le veci di roberta quindi facciamo quello che ci pare nel bene di roberta e della sua situazione facciamolo venire qui moloch vuole tanto conoscerci quindi andiamo lì distruggiamo il vetro e viene nel primo universo a vedere com'è non è quello che vuole tanto infatti entra molto entusiasta bene bene benvenuto e adesso appena entrato ha visto che eravamo noi è rimasto un attimo così ma li può stare qua nel primo universo realtà no nel senso infatti era molto felice che gli fosse per gli venisse aperta la teca bene appena ha visto noi si è ricordato l'ultima volta cosa le abbiamo fatto che spiace un ospite e gli vogliamo bene come tutti gli ospiti che a cui si vuole bene bisogna abbracciare l'ospite quando arriva no l'ombra io moloch a quanto sto vibrando 150 miliardi ok lo alziamo a 150 mila miliardi sì sì ok adesso che ecco sono pronto per abbracciare moloch benvenuto caro amico ti scrivo friggi ok un abbraccio ancora più forte con una mia mano destra sul suo basso bassa schiena e la mano sinistra sulla sua fronte che fa si brucia brucia c'è nel senso come come i vampiri al sole il presente che fa nulla ok i 5 del field richiamiamoli mettiamo nel cinema anche se non vogliono hanno interferito facciamo quello che vogliamo dovranno pensarci prima di interferire questo è il loro dio che con un abbraccio si scioglie abbraccio poi di me che non sono nessuno quindi qui dire 300 mila miliardi alle non credo c'è sei luce pura e lui che fa si sta mettendo un po male mai c'è la c'è la se se c'è il ma non eliminiamo tutto perché dobbiamo capire una serie di cose quindi ottime ne vede ne vado la pozzangherina resta lì cosa fanno i cinque e cosa fa lui secondo ha paura ha paura perché si rende conto che no a un certo punto non poteva più fare a meno di questa cosa e adesso sa che è troppo tardi e ha paura di quello che vedrà e di quello della spaccatura che gli si creerà dentro no vai a destra ok questo è un cinema recintato quindi loro hanno interferito quindi devono restare lì dentro che vogliano chiamiamo abbiamo invece il vero cinema quello facoltativo ci facciamo entrare il fila figlia giusto la figlia di roberta ma il padre della figlia si può e tutti quelli che vogliono venire il genitore fratelli open porte porte aperte allora io visto arrivare papà di sua figlia con la famiglia so due bambini e compagno moglie non so e poi è arrivato il fratello di roberta da fine davanti la figlia è davanti che è lì tutta contenta di vedere il film di vedere tutta la parte di proprio contenta contentissima poi c'è tutta la famiglia del papà della figlia appena dietro anche loro interessati interessati a questa nuova cosa su cinema particolare e il fratello di roberta si è fatica di roberta si è messo dietro e è lì che vuole capire perché dice come se io non capissi cosa fa mia sorella e quindi voglio capire cosa fa chi è come va bene ci sono impianti si allora allora ha un impianto alla gola poi a due impianti sulle creste lia che una destra una sinistra e poi a due impianti sui piedi adesso non si vista poi a un impianto mentale che è tipo una striscia che vada qua fino allo cipite però proprio sopra il cervello all'interno ma una fettuccia una corda si tipo una fettuccia piatto pianto mentale fatto sai di sembra tagliarello basta poi basta entità mentali tra mentali ce ne sono due ad entità 2 è una di entità 4 ok vediamo il nome e le caratteristiche della 2 cioè gli obiettivi della lua allora l'entità di livello 2 è quella che è come se gli mettesse confusione intorno allora prima prima ci vengono un'altra maniera prima era di livello 3 fino a due anni fa fino a due anni fa era di livello 3 e quindi riusciva liberamente agire su roberta no quindi creava confusione in roberta direttamente quindi ma faccio questo un'opera meglio così ma lì forse non sono adeguata ma lì forse magari ascolto quello non ascolto quell'altro no così poi è come se lei si fosse accorta di questa sua sua modalità e come se avesse imparato ascoltare la prima informazione che le arrivano quindi poi magari arrivava il pensiero no di come andare di là ma lei seguiva lo stesso il prima la prima informazione ok che era quella della ps interferenza ha perso un po livello quello che adesso fa è cercare di portargli il blocco dall'esterno ok quindi io vado di lì e poi però di lì non può andare ed è obbligato andare dall'altra parte vado boh che ne so chiamo con la persona adesso la chiamo che è fondamentale in questo momento la chiamo niente telefono funziona oppure l'altra persona occupata ecco cose così però agisce sull'esterno la 2 si la 4 e la 4 quella che agisce invece su tutti i blocchi quindi tutto soprattutto sulle persone che le stanno intorno cioè fanno sì che lei non riesca a comunicare in maniera efficace per lei con le persone intorno a lei quindi anche rispetto alla casa vedo rispetto al lavoro rispetto alla famiglia così no ok quindi lei vuole esprimere un concetto vuole esprimere una cosa rispetto a quella cosa lì pensa di dirla in maniera efficace e poi è come se di la livello energetico ottenesse il contrario ok quindi è rispetto alla casa che quella la fit vado ho scelto la casa voglio affittarla arriva la ed è come se anche senza che lei se ne accorge è come se dicesse qualcosa in maniera tale che l'altro dice di no ok oppure rispetto boicotta le persone che entrosse la difficoltà nel trovare un compagno è la 4 no 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 quella quella cosa lì è un po più vecchia io ci vedo dietro la mantide io ci vedo dietro la mantide però sopra non so se sempre ma stavolta la vedo sopra collabora con un uomo del tempo se lei dovesse riuscire a trovare un compagno con cui è si trova bene con cui riesce a esprimersi completamente per quello che è con cui non ha difficoltà a essere sempre se stessa ok lei riuscirebbe essere molto centrata evolverebbe la sua consapevolezza sarebbe ancora molto più veloce di così ok vedo però che come se la ps avesse voluto ammettergli questa difficoltà perché senza questa difficoltà lei avrebbe appunto sarebbe avrebbe avuto una consapevolezza molto più veloce voluta molto più velocemente ma come se a quel punto avesse dato per scontato la sua consapevolezza e la sua evoluzione no quindi è come se sarebbe arrivata alla fine dell'esperienza senza aver fatto l'esperienza non so se allora diciamo che apparentemente viene da dire ma brutta cattiva l'amantide per lei sono i cattivi il mondo è ideale e utopistico se non ci fossero questi cattivi non è questo ragionamento giusto noi siamo qui in un mondo perfetto per definizione il mondo è imperfetto per definizione se notate tutte le regioni dicono il loro posto al mondo è perfetto l'ha creato dio no il mondo è imperfetto è un inferno perché sennò non si fa nessuna esperienza qui per fare esperienze quindi non è l'amantide il problema è il problema è come mi libero dalla mantide esattamente facendo l'ipnosi ma come mi libero la manca perché tu fai l'ipnosi poi dopo è finito ti butti nella paura più totale ottio adesso esco quello mi ha detto una parola adesso di nuovo l'amantide lucio facciamo un'altra sessione no non è quello è il capire che l'amantide è uno sputo anche l'amantide è una nostra creazione capire che l'amantide ha dietro blocca cosa che ha detto che blocca alla relazione se quindi il mio nuovo obiettivo è l'uomo bypassare l'amantide l'uomo del tempo sono i guardiani del destino non dico a roberta quel film lo vedi bene non so se l'hai visto quel film guardiani del destino cercatelo quel film li è proprio messo nero su bianco questi due si devono incontrare sono le anime gemelle fiamme e fiamme gemelle e gli uomini del tempo fanno di tutto per fanno cadere lei che è una ballerina si rompe il piede fanno perdere il bus a lui però loro riescono a incontrarsi e questi non capiscono perché dai dati hanno delle specie di ipad in mano dei tablet dicono ma qui non dovevano incontrarsi qua noi avevamo l'evento x che doveva manifestarsi e quindi a lui doveva spaccarsi la macchina non sa spaccata e lui a un certo punto se ne accorge e vede che veramente non riesce in nessun modo a per esempio raggiungere in una città come mi pare new york che è per new york piena di possibilità per spostarsi velocemente non riesce raggiungere quell'autobus lentissimo dove c'è lei non riesce si mettono davanti i taxi si fermano si formano le code dal nulla in ore della giornata dove non ci sono code bla 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 questi sono gli uomini del tempo l'obiettivo di roberta è diventare la dea in se stessa quindi fregarsene di questi poveretti capirne il meccanismo e ottenere quello che vuole noi siamo qui per quello e lo puoi fare solo in un mondo imperfetto se no non c'è l'ostacolo non c'è il cattivo non c'è neanche il challenge non c'è neanche la sfida diciamo che c'è siamo che siamo la ps è ok noi siamo siamo arriviamo dalla sorgente siamo parte della sorgente siamo un 1 ma per capire che cos'è l'uno che cosa siamo dobbiamo fare l'esperienza di essere di essere divisi di avere degli intoppi per capire che cosa siamo perché altrimenti non non impareremmo che cosa siamo quindi certo non sapremmo beh si parte da quello sia la base della consapevolezza e chi sono io esatto roberta lo diciamo alla sua psp e chi sei tu io sono allora la base sono luce sono luce che mi vedo luce e poi quando vado avanti però non so come se non riesco a trovare il posto dove la luce può stare del posto nelle persone è come se mi mancassero delle informazioni come se vedo vedo il primo blocco davanti e poi bo e nulla e quindi non so dove la luce può stare ecco questo è quello che risponde ci sono delle vite di roberta tra le sue 2.216 che in cui questa ps era più consapevole si è ritrovata allora ce n'è una la vedo come se fosse potrebbe essere medioevo ma forse anche prima no prima prima mille due così la vedo come una donna molto rispettata nel suo villaggio perché riusciva a guarire se stessa e tutti con la sua energia anche gli alberi le piante gli animali e quindi era molto rispettata nella sua nella sua tribù nel suo villaggio la vedo anche cioè vestite in un certo modo no con una certa veste per indicare che lei era in grado di fare queste cose però vedo che ecco è come se poi a un certo punto però la scena è che le continuo così a poi a un certo punto come se tenisse costretta a dimenticarsi di questa capacità dove in altre vite se non in quella no no in quella no ma in altre vite si è come se avesse fatto un patto con l'identità nella vita successa della vita successiva in poi e dimenticarsi delle sue capacità a cose diverse se non ti dimentichi delle tue capacità avrai tutte le persone intorno a te che avranno staranno male avranno disgrazie ecco e lei ha accettato questo patto chi l'ha fatto questo patto chiamiamolo un felinoide a un felinoide con sopra zeus ok prendiamole queste sue capacità le mettiamo in un sacco che potremmo qui nella vita di roberta e sacco io lo mettiamo davanti tavolo quello che ha fatto è andato aprire il sacco ha detto mi sembrava che io avessi perso qualcosa ma non sapevo dove che cosa quali sono queste sue capacità sono le oddio capacità paramedianiche e di anni che capacità mediani che si diciamo che è una divisa in tre per amici o meno nel senso che la capacità di guarigione che si può rassumere in riportare la vibrazione a all'equilibrio giusto per quel tipo di corpo o di vegetale di animale scusate tranquilla alza le tue frequenze come abbiamo fatto la volta scorsa che ha funzionato alziamo le alziamo le alziamo le metti un ad eternum nella tua gola bocca va bene ci sono edl ce ne sono tre ok sono tutte e tre a disposizione dell'entità mentale numero 24 o si dividono allora ce ne sono due sono a disposizione mentale 4 e 1 dell'entità mentale 2 ok facciamo un po di cause esoteriche cause esoterica dei problemi ai denti vedo che quell'impianto che ha nella gola fluisce sui muscoli che provano risentire sui denti ma è un effetto collaterale o evoluto diciamo che è il contrastare che fa la ps con il suo fisico rispetto all'azione che fa che gli fanno attraverso l'impianto ok è in parte passato purito al piede destro ed egli è stato messo un impianto durante le un altro periodo delle vera setta satanica da quelli della stalle interferenze della setta se l'interferenza adesso c'è ancora sì però come se fosse spento no si accendevano con le condizioni di adesso quindi abbiamo fatto ancora niente si può accendere in che casi si può accendere vabbè in quei casi di come se ci fosse un altro rito di qualche altra setta di quella o di un un'emozione di ribrezzo vedo librezzo dolore forte e molta paura e paura forte paura proprio di morire ecco queste tre cose nel caso di queste tre emozioni forti si può si può attivare l'impianto causano liberazioni lo fanno arrivare causa esoterica di due addiction di due dipendenze alcol e tabacco allora non mi è mai capitato di vedere questa cosa qua allora quando lei ha iniziato prima a fumare mi viene aveva un entità mentale di livello 5 che le ha fatto la fatta diventare praticamente dipendente dalla sigaretta ok poi un po dipendente dall'alcol ok e questo è un altro è come se si è come se avesse messo l'abitudine la dipendenza e poi è andata a fare altro d'altro e queste abitudini queste dipendenze le utilizzano l'entità di livello 4 livello 2 quindi paradossalmente smettere diciamo solo di fumare per una come roberta è più semplice più semplice perché non ha un'entità diretta a solo quello a due entità e inferiori quindi se vogliamo pensare che l'entità 5 e quella necessaria per indurre una dipendenza e quindi anche per mantenerla un'entità 4 è un po meno potente quindi sgattaiolare da soli da con le proprie forze più semplice per colla 2 anche meglio no esatto se si va bene causa esoterica del fatto che non trova a l'entità di livello 4 perché perché è quella che gli mettere con i bastoni traduati tra virgolette nel senso fa sì che lei veda in collaborazione un po con l'alcol grigio fa sì che lei si atteggi senza volerlo c'è è come se lei pensasse di dire una cosa ma dalla bocca ne esce un'altra che lei non sente neanche ok quindi all'altro arriva vabbè tu no ok la casa non la vuoi non è non è disponibile no come se in qualche modo non è che lei si sono non vede quello che sta dicendo quello che l'energia che lei comunica si esatto e in più ogni tanto c'è il grigio che interviene dall'esterno e la boicotta perché perché come il partner se ne trovasse la casa ideale dove sentisse dove si sentisse tranquilla a casa con l'energia giusta anche lì l'evoluzione sarebbe molto più veloce la sua consapevolezza ok invece devono cercare di boicottarla a tutti i costi quindi di farla rimanere da sola ti farà rimanere in una casa dove lei non si sente sicura soprattutto in questo momento ok e quindi dove appunto quindi le vibrazioni negative sono le emozioni negative sono maggiori e le vibrazioni si abbassano tanto è come se creassero intorno a lei come se tutte le entità queste tre e queste queste tre teri che questi due mentali creassero un cerchio intorno a lei da cui lei non in questo momento non può uscire perché su tutti i lati c'è qualcuno che la blocca c'è una delle entità che la blocca va bene esiste la sua fiamma o anima gemella quindi anima fine c'è in questo momento è un po come se in questo momento fosse avesse una p la ps fosse quella parte dps in quella persona fosse un po incerta se rimanere o no non so come dire è incarnata come se la stesse tanto bene la fiamma si è la prima di maffine invece ma fine ne vedo una notte la francia francia nord occidentale ne vedo una tipo in cile quindi perché lei non ha mai avuto una vita sentimentale fortunata perché a priori a parte la fiamma gemella che c'è e la vedo appunto questo questa figura maschile che in questo momento è un po lì ma la notte ma l'andato si in toscana a parte la fiamma gemella no 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 è un problema fisico che è risolvibilissimo cioè non è niente vedo come se però è come se fosse debilitato in questo momento e la ps lì nell'incertezza allora un problema alla colonna vertebrale ed è immobile in questo momento immobile come se c'è queste immobilità buttasse giù tanto no di morale lo vedo abbastanza depresso e quindi non sa se rimanere qui o andare se meglio riva nero andare ecco però la blocca la blocca la blocca no non solo riguardo la fiamma gemella che vabbè lì c'è stato un momento dove si si sono incrociati nella vita hanno avuto qualche scambio si sono parlati hanno interagito c'è stato un momento dove sarebbe potuto scattare legame ma ovviamente sono stati boicottati ma la vogliono boicottare a priori anima gemella uno anima fine scusa fiamma gemella o no cioè lei non deve avere relazioni dove si può e dove può sentirsi se stessa si trova bene dove sarebbe troppo facile bene perché però almeno non ha avuto una relazione valida allora quello che fanno è far sì che lei diciamo che la buttano sempre sul suo comportamento no come se la facessero sempre sentire in colpa è sbagliata lei ecco la vedo così va bene ok analizziamo rapidamente questa famosa relazione lei ha sentito buffo metal prima di tutto lei è soggetta è stata soggetta ad abduction sì ma abduction all'interno di riti di questa setta anche se è passato altre abduction e ti rima poche ok se lei si ricorda di essere stata nuda con donne visto che lei non è attratta da donne e quindi non è una fantasia sessuale non ci avrebbe mai pensato neanche con le cannonate che è successo faceva parte erano tutte donne che facevano parte di quel ritori e lei ha avuto un attimo di dopo ha avuto un ballume di ricordo perché le sedavano tutte ma ed è fisico nell'eterico lì e nel fisico ha avuto un proprio ricordo come ha fatto mister a drogarla portarla riportare si si mettono ecco la messa non le persone se in un bagagliaio la messa addormentata ma sul sedile perché erano era notte era notte e lei dice che si era pollice su col ok non si sa da chi sia venuta di mente l'idea lei fa una cosa sulla pelle a lui lui fa una cosa sulla pelle a lei indotta indotta dalla molo per fargli credere appunto che era lei che voleva stare in questa cosa quindi mandavano tutte le informazioni a lei ok ma come funziona cioè molo che lo dice a lui lui fa le sue cose so piglia il capello prende fa fa il ponte di titità e lei a lei viene voglia di fare questa cosa quindi successo lui prende i complimenti le monetine d'oro a da moloch o il riconoscimento del gruppo della bravo ce l'è fatta se bravo sei andato più avanti di noi così questo è sì 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 o beh poi è sempre lo stesso schema i cinque hanno perdono sempre che bordello che chi è salito i militari arrivati ma cesso e via o pa ma quando arrivano quando direttamente non c'è naso portale dell'obbligo ed effettivo andati dicevo ovviamente si può parlare cosa stavo dicendo boh anche hanno 5 i 5 1 ps allora adesso allora ne avevano ancora una parte adesso è andata 56 tutti e 5 quei 5 di sì e poi è come se poi cambiano loro salgono di grado fanno altre robe in altri posti arrivano ne istruiscono sempre di nuovi di essere in un range detta dieta precisa baffo mento lei lo sogna manco sapeva che fosse vede l'immagine poi se la cerca è arrivata a noi in questo modo cioè facendo ricerca bravissima roberta ha detto adesso devo cambiare qualcosa voglio fare ricerca è arrivata ai video prima visto buff method ma questo è quello che io ho visto io mi ricordo questa roba qui cos'è la capra no la stella con la punta di giù a direi che fantasia che hanno questo questo è un cazzo da fare a 9 con per cui qui se c'è qualcuno con la consapevolezza 0 sono questi qua un altro che gli adoratori di ma doratori di che avete capito niente se c'è un esorcista non ha capito niente l'esorcista ma rispetto a questi l'esorcista qualcosa l'ha capita che l'esorcista ha capito niente bisogna capire chi ha capito e chi no quindi chi ha capito bisogna dargli retta chi non ha capito niente bisogna dirgli ciao auguri qui è solo una questione di aver capito le cose che non vuol dire è quella la legge è così perché te lo dico io vuol dire averlo capito averlo capito ci è sbattuto la faccia cioè mi hai fatto le tue verifiche dice molto probabile che sia in quella direzione non è così è molto probabile che lì siamo in una buona zona di comprensione e questo vale sempre non un giorno io dirò che è così la verità svelata ecco perché mi irritano quelli che mi vogliono come loro guru io non sono il guru di nessuno o mi chiedono io che faccio qui come faccio mi compro la macchina mi compro una maglia azzurra mi compro e cosa vuol dire a me non so mica cioè un altro osho un altro sei baba volete veramente il il guru non c'è il guru dimenticatevelo sbattetevi la faccia e la testa sulle cose siete qui per questo non per far andare avanti bene la vita per vincere per cavarvela da soli brava roberta che hai trovato le soluzioni e le risposte da sola cos'era vaffo metto beh l'ologramma l'ologramma che fanno vedere grazie baffo metto che ci mandi la tosse tanto lo dico lo stesso quindi è l'ologramma che fanno vedere alle persone nell'idea collettiva è molto spaventoso molto pericoloso e molto molto quindi ho una curiosità perché sto baffo metto e la capra e quindi poi la stella con la punta in giù perché la stella con la punta in giù perché la capra e quindi la barba della capra perché il capone il diavolo e satana che poi su tutte le stesse robe pasticciate che cioè frega niente sono tutti archetipi inventati a cui molti danno un grande peso una grande importanza perché quella forma allora la punta in giù è collegamento energetico verso la terra e le due corna sono collegamento energetico verso il cielo ok il passaggio energetico lo fanno tramite queste due cose che vedo anche che durante i riti fanno in modo che ci sia un collegamento verso la terra e poi verso l'alto lo simulano anche no e tra c'è di male la terra l'alto boh e quindi perché perché pensano che quello sia essenziale per fare i riti che fanno loro quindi le cifero che l'angelo caduto deve diventare il dio vero quindi verso l'alto caduto in basso anche perché la capra ci sono tanti altri animali che potrebbero essere usati perché tipo il primo animale che hanno usato per fare i sacrifici ho visto questa cosa qua e quindi alle due corna hanno usato come primo simbolo diciamo che il primo rito è nato senza sapere che fosse un rito hanno iniziato a mettere a obbligarle per questi uomini vedo tre persone tre uomini interferiti a cui hanno fatto fare per primi questa cosa però quanti anni fa tantissimi dove si mi tra la turchia da turchia come si chiamano questi tre dove sono adesso a questi trenano tre uomini qualsiasi tra virgolette della zona adesso sono incarnati biden diciamo che come allora come se l'informazione diciamo territo tutte le volte che viene rifatto aggiungi un pezzo in più come sai quando fanno a gomiglia a gomitolano il filo ma c'è sempre questa cosa gira che c'è il primo strato di filo e poi sempre più strati no ogni volta che aggiungono uno strato e aggiungono informazioni al rito quindi la loro intenzione diciamo delle interferenze era proprio quella di accumulare l'energia vibrazionale bassa nei riti ma se avessero fatto fare era troppo farlo fare subito con con gli umani con le persone tagliando tirando fuori organi sangue cose varie ok sarebbe stato troppo e quindi troppo alla luce del suo esatto quindi pian piano nei secoli hanno aggiunto dei pezzi va bene di nuovo l'eco vabbè io salterei tutta la parte dove l'hanno dove dove lei andata eccetera diciamo soltanto che tutta la parte sessuale stupenda molto abbondante molto focosa a una causa esoterica era il modo per trascinarla a livello energetico in questa cosa no quindi farla proprio sentire vedo proprio ammagliarla ma gli amokai più sempre più non voglio ripetere la sua frase ma tu l'hai sentita la frase che diceva sempre a una causa esoterica era il motto che usavano all'esterno per è come se dovessero dichiararlo no in qualche maniera quindi quello che dovevano non possiamo dirla questa frase perché eviterei quello che loro sono devono quindi in modo migliore per un è mostrarlo esatto sì ok che poi è la è la base di tutto ti devo dare tu mi dai la tua autorizzazione anche se questo caso è ben difficile intuire che ci fosse detto una setta quant'altro detto questa frase però magari è la stranezza e della frase o la il fatto che fosse fuori luogo teoricamente no io ti devo dire che ci va una porcheria e poi se tutto lo fai su cavoli tuoi e solo il fatto che devi formare fogli su fogli e come scarico di responsabilità è un modo per dirtelo poi se tu sei così scemo da fartelo lo stesso te l'ho detto silenzio senso no purtroppo questa è questa una regola schifida di questa matrix in cui ci siamo infilati terribile ma volendo anche sensata come regola perché io te l'ho detto e tu se non ti sei opposto hai detto anche di no o se ne sei stato zitto e te ne sei fregato di fatto lo è accettato va bene cosa fanno nel cinema cosa fa la figlia la più importante di tutti la figlia è contentissima di che gli siano state passate le informazioni di come funziona tutto e si sente si sente forte si sente come se avesse acquisito molte cose no molte informazioni e quindi si sente più pronta ad affrontare tra vivette in modo da sola nel senso il suo mondo no però la sua parte di mondo dove può agire in autonomia è molto contenta la famiglia del papà della bimba sono entusiasti di vedere film diciamo meno vedo un po più passivi tra virgolette no guardo e basta esatto mi tengo le informazioni sarà utile e il fratello e il fratello lo vedo come per dire ok questa è la verità so che la verità faccio finta che non c'è perché troppo difficile dovrei fare troppa fatica per seguire la verità va bene il cinema è sempre lì loro stanno vedere i quelli della setta che fanno quelli della setta sono li vedo come se fossero li vedo letteralmente come se fossero divisi in due sai come quando accetti un pezzo di legno che fa così ecco li vedo tutti e cinque di quella testa aperta così proprio quindi abbraccio continuamente continua ad abbracciare quello che cui a cui non si è precreduto o questi stanno dicendo delle robe sensate questo stesso c'è hanno visto che questo ha senso ma al punto in cui sono è troppo difficile tornare indietro e se fossero rassegnati a stare in quella schifezza perché tornare indietro è troppo difficile non è possibile il recinto il recinto del del loro cinema scompare per cui andate in pace andate bene fuori dalle palle se non ve ne frega niente va bene così nessuno vi trattiene più se vogliono invece sapere come stanno veramente le cose vanno nell'altro cinema facendo i bravi mettendosi in una zona diversa dagli altri e rimane solo la metà destra lì si rimane la metà destra rimane si è il cinema cinema nel cinema cinema ecco basta con questo eco non ne posso più di questo eco di nuovo questi qua poi in un'altra cornucopia non ne posso più di questi di essere disturbato ogni due secondi cosa vogliono questi qua ancora io ho rimesso fatto che rimette del corno coppia che vuole con un coppia di ad eternum bene insegniamo a roberta a creare un ad eternum insegniamo a roberta a creare ma non si sa mai ma odio per il tabagismo e l'alcol si eterna frequenza assolutamente un'altra sfera fumosa violetta spirale usa e quant'altro fa poco vedrete la sessione roberta a sessione perché quando questa sarà pubblicata sarà già stata pubblicata da tempo che abbiamo creato una sostanza una pallina una creazione che serve a mantenere alta la frequenza nel corpo nata per i cini vaccati i pentiti i quali dovranno resistere ad attacchi grazie alle sostanze che si sono fatti iniettare e quindi hanno bisogno di una costante frequenza alta ed infine la pillola vic tutto questo è visibile lì al cinema tutto questo lo insegniamo a roberta e con questo know how andiamo insieme a lei al cluster ci porta lei si è andata diretta benissimo lei che cercava baphomet che quindi ringraziamo perché grazie a baphomet e al suo ricordo archetipico che lei è a cui oggi e oggi lei fa un salto di quelli pazzeschi lei non è una delle tante è una delle poche che fa queste cose perché sul totale sono quattro gatti quattro che fanno questa cosa allora mai visto così ogni vita è un ciuffo d'erba e fino a terra o un filo ciuffo d'erba e ogni filo d'erba è un contratto quindi hai un prato davanti se un prato su della terra visibile quindi sempre di ciuffi o sono tutti attaccati no sono dei ciuffi divisi ok cosa ne fa sta aprendo portare definitivo e li ha presi tutti e li sta lanciando dentro mi ha lanciati e ha chiuso adesso si è creata l'ad eterno e lo sta mettendo di ok cosa fa l'ad eterno ma in un posto come il cluster lo illumina locale da via lo riempie di vibrazioni altissime partendo dal basso poi tutto intorno e poi si riempie tutto il mezzo ok andiamo all'avatar ok ci fa ridere mi fa ridere perché si è vestito da la bocca con la toga da boccato no qua sì per fare i conti dove a metter giù bisogna capire che chi vince la causa lui dice ok cosa fa roberta a per portare definitivo come lo mette lì dentro devi spiegarmi come lo mette lo prendono a calci lo prendono da ora di soli solitamente se non c'è qualcuno che ancora un po ancora un po quell'energia quella con la vibrazione di emozione un po bassa solitamente sia arrivando a vedere tutto il cinema la consapevolezza già aumentate vibrazioni sono aumentate lo prendono da sotto tipo mettono le mani sotto tutto ok lo prendono e lo ribaltano dentro al portale definitivo così ponde tutto avatar scrivania computer tutto si popala in questo caso si sia fatto così in questo caso invece a così se si è fatto così lui parlava lei cioè se se intanto faceva bene questo momento più emozionante l'accensione di una ad eterno esattamente lì dove lui lavorava e ricordiamo che gli avatar sono in un chiamiamo gli hangar giganteschi infiniti insieme a una scacchiera di avatar tutto intorno quindi i poveretti che sono intorno a lei non sono così contenti perché quella è una sfera di intensità altissima vibratoria se vengono stionati una parte come se fossero stionati quelli intorno a va bene come vedi adesso roberta quei gli impianti mentali quegli impianti eterici quelle in due entità mentali le entità eteriche comprese il felinoide di vecchia data zeus mollok l'amanti del grigio spok il lupo le abduction abduction e le abduction rito o i rapimenti in cui lei è stata costretta a partecipare nel fisico a dei riti drogata tutto questo il collegamento con la seta satanfield c'è ancora qualcosa c'è più niente ok connessioni punti contratti con l'ex no 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 assolutamente 9 59 ad eternum 1 nel nel corpo fisico dove lo mette stavo qua su una spalla spalla sinistra perché perché appunto dice appunto che di più adesso ultimamente quindi parto da lì così poi si diffonde tutto il corpo emozionale più o meno qua direi mezzo più o meno dove c'è l'ombelico se corpo mentale appoggiato sullo cipite tipo ok nel corpo mentale è molto fondamentale fondamentali tutti gli ad eternum che mettiamo ma quello mentale l'entità mentale sulle più schifose di fatto quindi il mentale è sempre in in agguato è quello su cui dobbiamo lavorare di più ma mettere una frequenza eterna una frequenza costante li aiuta è un elettrico e uno nel subliminale puliti ok con questa nuova condizione a quanto vibra roberta 187 miliardi però a quanto sta la sua consapevolezza 189 ok non era male 115 per una quasi neofita è un primo della classe psp e insomma tanta roba 53 47 benissimo invertite quasi uguali vite precedenti 1910 cervello 9,5 ok poco di più bene ci sono delle tecniche per affinare no per aumentare questa percentuale mi dice disegna ok disegna mi dice proprio disegni cinque corpi ok disegni cinque corpi e ogni giorno metti come se mettessi una d'eterno in una parte diversa decido i tuoi cinque corpi ok proprio disegnare la d'eterno nei vari punti e mentre tu lo disegni dopo che l'hai disegnato pallino nuovo ad eterno ok visualizza visualizzi esatto la vibrazione che si alza tantissimo decidi tu il numero della vibrazione che vuoi mettere ripassiamo corpo eterico lo spirito il grande spirito degli indiani d'america quello che ci dà la vita quando si muore quando muore la pianta se ne va il suo eterico il gatto se ne va il suo eterico quando moriamo noi se ne va il nostro eterico il ghost del film ghost è quello di fatto è quello che se tu lo togli il corpo si affloscia e tu lo rimetti perché sei tornato in vita e coppoli si riprende la vita il grande spirito non è per niente da sottovalutare eterico è tutto tutto il mondo vita sono pochissimi posti nel mondo dove c'è pochissimo eterico pochissimi posti il subliminale l'anima sembra che qualcuno non ce l'abbia sembra di sì sembra di no non si è ancora capito non ci importa molto l'anima ok che è un'evoluzione ed è una sì è una parte evoluta dell'eterico quindi n che l'eterico fa schifo e l'anima è tutto l'eterico è se poi è evoluto e poi cambiato più che voluto in subliminale il corpo fisico vabbè c'è bisogno di spiegarlo il corpo mentale fondamentale il grande nemico la mente mente questo è un gran bel riassunto studente quella memoria il corpo è emozionale siamo fatti di emozioni sono energie alta frequenza bassa frequenza rispettivamente belle emozioni basse brutte emozioni anche solo la serenità e alta frequenza ore la gioia l'entusiasmo la voglia di fare divertimento crea divertimento la risata iniziate una giornata con una bella risata e siete già a posto invece la depressione la negatività la paura la tristezza la rabbia la rabbia molto schifosella l'ansia l'ansia la depressione tutte sfumature di basso lorenzo questo è l'emozionale messaggio finale di roberta a se stessa ora hai tutti i presupposti per rimanere per andare avanti sempre centrata così come come vogliamo in questo momento tu puoi volare sempre non farti trappare le ali dalle emozioni negative o da quello che senti che arriva da fuori tu sai i tuoi obiettivi tu puoi tipo nell'obiettivo e sai che quell'obiettivo li è già fatto ma assolutamente cioè come se non ci fosse niente intorno vai avanti così e noi andremo dove vogliamo ecco questa cosa qua ok e la figlia che fa la figlia saltare tutto contento bello mamma bello ma facciamo mamma bello mamma così l'ex che fa se c'è vedo questa parte questa metà queste metà immobilizzate di baffo metto che fa baffo metto è lontanissimo non c'è più non c'è più nella sfera di gli mettiamo un ad eternum nella o di fa baffo metto l'udienza è tolta non chiamo le mani è lì è lì ormai lì no attira sempre una d'eternum basta ti chiami eleno l'ora in poi per avere anche tu no roberta una o io una o tu no e questo farà la un po tondeggiante che fa il cerchio esatto fa il cerchio della bello tondo ci sono dei font così anni fa e anche tu la tua va bene io non ho nient'altro da chiedere tutto il resto anche i dettagli che non dico di dove dove c'è quella quel mater metallo perché niente quella roba lì ne frega assolutamente niente se parla meno gli si dà energia sinceramente evviva diamo ovviamente tutte le informazioni a quelli nel cinema figlia in primis famiglia del papà e fratello ma tutti in realtà come creassero ad eternum come come giassi la vic come cosa digitare su youtube per vedere dei video che sono interessanti nostri perché anche questo importante questo è quello che sfonda la mente mente noi che blocca stupidaggini non ce ne sono comunità scientifica non è scienza non funziona invece funziona abbiamo risultati pazzeschi adesso inizieremo anche una serie di testimonianze abbiamo anche i risultati intelligenti perché a volte ci sono delle piccole ricadute poi le persone hanno capito delle cose riprendono in mano alla situazione e restituiscono la condizione di pulizia da sole alla propria esistenza da adesso in poi inizia per roberta una bella vita ma anche una bella vita di ricerca di miglioramento di difesa quotidiana con una grande risata una grande sorriso e è una grande come dice sempre ed è una centratura quindi non è che bisogna aspettare dei risultati e basta bisogna assecondarli consci che c'è stata una pulizia profonda siri continua ci sono tante cose che devi imparare ed è bello impararle perché il mondo perfetto e utopistico la palla se esistesse sarebbe una palla sembra che siano state delle matrix iniziale queste troppo semplici e le hanno chiuse le cavolo dps le han chiuse perché non facevano esperienza e tutto era bello e pulito e ben corretto quando un po esagerato nel complicare il gioco e no no ce ne sono resi conto che hanno un po esagerato però i primi mondi erano utopia pura quindi tutto bello tutto stupendo vita semi eterna nessuno moriva non c'erano le malattie io al tuo posto roberta l'occasione che hai avuto di vivere quello che hai vissuto con mister è un'occasione d'oro è stata senza di lui tu non saresti qua non saresti non avresti capito un'infinità di roba quindi non diciamo gli grazie però a tutti sei scelta questo tizio anche per fare un bel balzo in avanti veloce un bel booster tratto un booster pazzesco senza di quello turbo booster niente saresti magari arrivata di buoni risultati in 30 anni tutti magari forse quindi vedetele anche come delle opportunità queste esperienze tragicomiche 7 bafometto stronzate questi qui sono solo delle stupidaggini alla fine sono delle occasioni per avere booster mentre sono logoroico oggi sei pronto a tornare elena che sconnettiti da tutto e tutti